Continuano gli appuntamenti con la cultura a Battipaglia. Il teatro Aldo Giuffre riesce ad offrire un cartellone di tutto rispetto, creando valide alternative nel panorama dell'intrattenimento del territorio. Ieri era in scena l'attore Paolo Cagliazzo, con lo spettacolo Separati, ma non troppo. Io mi trovo sempre bene, devo dire la verità, è un pubblico sempre molto ospitale. D'altronde questa è anche la zona che io decido dove passare le mie vacanze, quindi tecnicamente è una zona d'Italia che amo particolarmente. Ecco, come citavo non solo, spesso, anzi sempre, gli suoi spettacoli fanno anche riflettere, ci sono dei messaggi che arrivano, si ride, ma in qualche modo si ragiona poi sul messaggio dello spettacolo. La priorità per me è sempre la risata, per cui cerchiamo sempre di dare leggerezza. Il mio motto è leggerezza ma mai banalità, quindi la prima cosa, il primo intento è di strappare una risata. Se poi dietro la risata riesco a nascondere anche un messaggio per cui magari tu dopo dici mi ha fatto ridere però mi ha detto qualcosa, allora ho due obiettivi centrati. Forse è un po' anche lo scopo di questo spettacolo, si ride, si racconta la vita matrimoniale con il sorriso, ma forse c'è dietro il messaggio del valore della famiglia. C'è un messaggio del valore dell'amore a tutto tondo, perché nonostante dal titolo, può forviare il titolo separati, è una storia di separazioni, sono due coppie che si sono separate ma fanno di tutto per tornare insieme, quindi sostanzialmente è una storia d'amore e con tutti i risvolti divertenti del piccolo dramma. Purtroppo la comicità si nasconde sempre dietro le tragedie, dietro le piccole tragedie della vita, per cui noi andiamo a prendere questo momento di difficoltà di due coppie e giocando, magari dicendo qualcosa col sorriso sulle labbra.